Salve, oggi andiamo a vedere come fare delle decorazioni con le verdure. Ho scelto delle barbabietone e andiamo a vedere il procedimento molto molto facile. Andiamo. E allora, mettiamo il barbabietone dentro. E allora, mettiamo il barbabietone e mettiamo il barbabietone. Ecco, andiamo. Questa sembra un po' di pressione, diciamo. Questa sembra un po' di pressione. Questa sembra un po' di pressione. Adesso mettiamo una teglia. E lo spalmiamo il più sottile possibile, cercando di formare dei quadrati, anche se non perfetto, non fa niente. Grazie a tutti. Ok, adesso questo lo inforniamo a 180 gradi. Ok, per circa un massimo 10 minuti. Quindi controlliamo, vediamo la consistenza, ce la vogliamo noi. Ok, adesso inforniamo e poi andiamo a impiattare sul nostro set fotografico. Grazie a tutti.